Buonasera a tutti e buonasera a tutte e benvenuti a Roma in Italia, un paese dove potete camminare mano nella mano, baciare in pubblico, sposarvi, dove tutti possono adottare dei bambini se non ne riescono di avere di propri e dove l'omofobia viene punita per legge. Ecco mi sarebbe piaciuto poter dare questa di notizia e invece non è così, quindi buon Europride a tutti. Grazie.